Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi! A Risolto Giallo! Salve a tutti, bentornati e bentornati a questa puntata di Risolto Giallo che, come scoprirete cammin facendo, è una puntata molto importante. E siccome dovevamo celebrare in qualche modo il momento abbiamo scelto un ospite molto importante. Lo conoscete già, è già stato con noi e lo riaccogliamo con un abbraccio immenso, il nostro Ceronissimo. Buongiorno! Buongiorno Alessia! Presentati bene perché io ho fatto l'amichetta. No, no, hai fatto bene, siamo amici in effetti. Sono Gianna Andrea Cerone, è la seconda volta che sono ospite molto felice di questa trasmissione e sono qua per parlare appunto del mio ultimo romanzo che si chiama Le conseguenze del male e Alessia so che sei la mia lettrice quindi sono nelle tue mani Assolutamente! Da quel meraviglioso momento al supermercato di Verbania quando per la prima volta vidi un tuo romanzo oggi posso dire di averli letti tutti. Stamattina ho terminato l'ultimo. Noi ci vedemmo per il trattamento del silenzio, vero? Noi ci vediamo per il trattamento del silenzio. E allora forse i nostri ascoltatori ricorderanno un po' come si orchestra la tua squadra però ripresentiamola ai nuovi arrivi. Ma la squadra si chiama UACV è un'unità di analisi dei crimini violenti che è presso la questura di Milano l'UACV ovviamente è sotto la direzione della scientifica ma in ogni questura c'è un distaccamento operativo per fare insomma per operare le indagini sul terreno per andare a vedere come stanno le cose. A capo della mia unità c'è questo commissario che si chiama Mario Mandelli che è un po' antistorico perché è uno che ama la storia e ama la sua città è uno che va a piedi è uno che sembra più vecchio di quello che è più maturo diciamo di quello che è ma è un uomo posato una persona lucidissima un grande investigatore per insomma per contraltare gli ho messo vicino uno bellissimo uno sorta di scappato di casa che è dei classici bellissimi immaginatevi un gasman di vent'anni fa un borghi insomma proprio bello che proprio perché è bello è anche il ruento insomma è un po' a disagio nel mondo è alla ricerca dell'amore insomma pare che in qualche modo adesso si stia mettendo in carreggiata però insieme questo per raccontarvi che insieme formano una sorta di investigatore ideale attorno a loro ruota una squadra molto femminile con delle sfumature non dico rosa perché è orrendo ma con delle sfumature femminili molto forti a partire dalla compagna di Mandelli che è la moglie Marisa ah me la metti nella squadra? sì perché me l'hanno detto in molti che è quasi è quasi un'anima allora te la dico così se Mandelli è la bussola della squadra Marisa è il suo polo nord e quindi questo funziona un po' così ecco attorno a loro ovviamente ci sono tanta umanità tanti casi criminali molto efferati anche alcuni casi e quindi insomma loro si destreggiano e raccontano anche la contemporaneità con la Milano che stiamo vivendo insomma c'è tutto un racconto in ogni romanzo diciamo che sono tre atti di una sorta di melodrama quindi avete capito che la scena parte sempre dalla nostra città poi si ramifica a seconda delle trame differenti e di Milano nei tuoi romanzi diciamolo subito visto che è Milano al News che ci ospita ce n'è tanta ma Milano è una protagonista è proprio la mia volontà quando ho iniziato quando ho pensato questa serie proprio di farne una protagonista non un banale sfondo non un scenario un po' asciutto ma proprio una protagonista tant'è che come tu sai in ogni romanzo Milano cambia nei miei romanzi cambia non solo dal punto di vista territoriale dell'ambito in cui si svolgono le azioni ma anche proprio fisicamente in una è una sorta di Milano sospesa quella del covid sospesa su quest'acqua su cui galleggia tutto qui e poi l'altra invece questa immersa nella pioggia di novembre e la terza in realtà l'ho asciugata all'inverosimile l'ho ambientata appunto in un agosto in una fine agosto in una coda agostana torrida caldissima dove la città sai benissimo che cambia completamente aspetto allora restiamo sulla città che è un tema che a me piace molto e mi piace molto intervistare autori che geolocalizzano in maniera così precisa calcolate che Gianandrea addirittura vi dice dove abitano i suoi personaggi è veramente particolare peculiare questa cosa perché ti può capitare magari di essere nella stessa strada o nello stesso quartiere e magari alzi gli occhi chissà qual è la finestra di Nicola Vacirca chissà qual è la finestra della Marisa sì che poi non è una mera un vezzo cioè proprio un modo per non è neanche noioso non è odonomastica è proprio la volontà di dare degli indirizzi precisi dei movimenti precisi ma questa cosa universalizza la città paradossalmente anziché renderla specifica tant'è che io ho tantissimi lettori in tutta Italia che mi dicono guarda io non conoscevo Milano attraverso i suoi cioè ho superato lo stereotipo della città attraverso i suoi romanzi la conosco è giusto del resto molti di noi conoscono a meno a dito quartieri interi di New York senza esserci mai stati grazie soltanto a Woody Allen piuttosto che ad altri autori e tu però veniamo all'ultimo nato con il tuo ultimo romanzo in realtà ci porti anche in location particolari perché io non so se questo te l'abbiano già detto quantomeno è la mia impressione cambia anche un po' il registro narrativo qui ci sono delle forti inserzioni di Wired per esempio che quindi hanno offuscato la tinta e contemporaneamente consentito di uscire intanto ti chiedo dei luoghi dell'ultimo romanzo quanti sono reali e quanti sono inventati? ma i miei luoghi sono quasi tutti reali lo sai in questo romanzo nello specifico ci sono solo due luoghi che non sono che non corrispondono alla realtà in realtà uno so esattamente qual è e dov'è tu devi entrambi in realtà so esattamente quali sono e dove sono ma ho cambiato il nome per una motivazione di delicatezza perché sono uno si riferisce appunto a un centro di mediazione di cui poi se vuoi parliamo diciamo che tutela le fasce deboli ma soprattutto le donne che subiscono stalker guardate come mi fa così con la manina come dire tu ne dovresti sapere e guarda che sei stata chiamata adesso lo svederemo ti ho chiamata prima mentre stavo costruendo il romanzo ho detto cosa devo fare in questo caso cioè come devo trattare questa cosa quindi quel luogo lì io l'ho cambiato ed è in una finta via Mendrisio e ne ho cambiato un altro che è questo riva verde che è questa sorta di compound di centro abitativo che io so esattamente dov'è qual è il nome vero ma l'ho cambiato per delicatezza perché tu hai letto il romanzo lì avviene una strage terribile quindi mi dispiaceva attribuire a un luogo reale non voglio chiederti quale sia l'alter ego reale di questo luogo però mi corre l'obbligo di chiederti e credo di non svelare nulla della tua trama se esista realmente quel paese che incontriamo verso la fine del romanzo quella specie di parco possiamo raccontarlo perché questo per me è stata una scoperta io invece non ne sapevo nulla e sono rimasta a bocca aperta in quelle pagine è la città si chiama città fantasma di consonno in realtà ed esiste ancora cioè è un luogo fisico che esiste è sopra Lecco sulle alture di Lecco ed è il sogno direi lisergico di una sorta di commendatore che negli anni sessanta più o meno voleva costruire la Las Vegas dell'Abrianza e voi immaginatevi una cosa simile ma per farlo ha fatto una violenza terribile cioè ha comprato due vecchi borghi che erano contigui uno di consono e uno più piccolino vicino e li ha asfaltati completamente cioè li ha battuti completamente anche con le persone ancora dentro cosa che adesso è inimmaginabile tant'è che Mandelli lo dice e dopo aver abbattuto tutto il vecchio borgo ha costruito questa folle città che è fatta di minareti cannoni napoleonici giardini arabi ma si può visitare? guarda adesso non si può visitare perché è pericolante quindi c'è un'associazione che si occupa insomma di tenerla viva come luogo è stata vivissima fino a fine degli anni 80 perché c'era una sorta di RSA di residenza per anziani e quindi veniva frequentata dagli anziani appunto dagli infermieri che erano lì ma è un luogo veramente distopico sembra di essere in un sogno di Alice di Alice ecco che mi dà il gancio a proposito di distopie e di contaminazioni di genere anche se il tuo rimane assolutamente un noir e forse anche un poliziesco di tipo classico però come si diceva inizio puntata qui la componente semi fantasy o comunque una digressione verso colorature temperature più torbide più grigie c'è assolutamente c'è su questo cosa ci puoi dire e soprattutto da che cosa nasce ma guarda nasce perché questo romanzo per me deve essere un po' quello che promette il titolo sai che i miei romanzi il titolo promette poi quello che trovi dentro quindi io volevo parlare delle conseguenze del male quando arriva quest'ala nera che è in copertina che sorvola tutta Milano e la Brianza taglio a vedere che sei inquadrato tu in questo momento esatto guardatela l'ala nera bellissimo esatto colpisce un po' tutti e quindi le conseguenze colpiscono tutti e questa era l'intenzione per fare questo io ho dovuto usare delle colorature narrative e ho voluto usare delle colorature narrative differenti perché in qualche modo volevo anche omaggiare quella che è la narrativa milanese noir milanese classica prima di tutto volevo omaggiare il black thriller nero americano ero e via dicendo e anche un po' il nordico di Mankel se vuoi il prologo infatti è perfettamente quello e quindi ci sono degli omaggi voluti e c'è anche l'omaggio a quello che raccontavi tu che è quella tradizione favolistica orrorifica italiana che noi spesso dimentichiamo nonché l'iconografia cattolica che è un'iconografia durissima alla quale noi forse siamo anestetizzati fin da bambini siamo abituati a vedere la via crucis che è un martirio termendo noi non riusciamo a capirlo forse lo capiamo ma ce l'abbiamo un po' nel DNA questa violenza i martiri cattolici sono uccisi in modo terribile decollati squartati con una fantasia da parte dei torturatori e quando tu sei piccolino subisci queste cose senza neanche accorgere io andavo a scuola in un collegio in una scuola privata di suore ho fatto le elementari lì e c'era questa santa che era quella che aveva dato il là a questa scuola che era imbalsamata in una teca in una chiesa e uno dei premi era andare a vedere a ripregare intorno a questa teca di vetro dove c'era questa signora imbalsamata poi sai la candela l'oscurità e quindi noi bambini con il nostro grembiolino ci tenavamo per mano e non lo vedevamo proprio come un premio era una cosa che in qualche modo inquietava siamo ai livelli di dai un bacio alla nonna un po' poi la nonna tu sai che qua dentro c'è scusate quindi tutta questa cosa è voluta quindi anche l'omaggio che ti raccontavo che dicevo prima al noir milanese è fortemente voluto io chiamo il cognome di Loredana Crescenzaghi che è una delle protagoniste di questo romanzo è mutuato dalla Crescenzaghi dei ragazzi del massacro di Scerbanenco la povera insegnante è brava quella massacrata dai suoi alunni che appunto poi Scerbanenco era veramente lì si era fatto qualcosa di importante sì no ma era veramente pesante era uno che io che dovrei essere anestetizzata anche professionalmente quel libro me lo ricordo è tostissimo perché poi racconta il mare nella sua crudezza totale sì poi quello banale quello di Arnarendt esatto la banalità vera che è quella che fa paura vediamo adesso il processo impegnatiello è veramente ma perché poi è quel male ed è quel male che mi angoscia di più e sai che è quello che mi fa più paura quindi c'è tutta questa serie di omaggi c'è questa costruzione ed è quasi tutto voluto anche questa esondazione fisica da Milano mi serviva perché è talmente tanto il male di questo romanzo che lo scenario doveva allargarsi andare all'abrianza andare a consonno insomma sono scelte volute e pensate contemporaneamente però tu ai tuoi personaggi a cui avevi imposto un certo ritmo nei primi due romanzi qui poverini gliel'ha imposto più veloce loro vanno a doppia velocità qui avevano sempre otto giorni nelle due indagini precedenti qui quattro cinque cinque sei perché poverini gli stai dando sempre meno tempo ma perché perché in realtà questo come ti dicevo è una sorta di terzo atto di quel tipo di struttura che è diventata una sorta di mia cifra se vuoi che poi probabilmente cambierò cioè perché poi voglio allargarla voglio metterla in condizioni diverse vedere come lavorano su una metrica temporale diversa differente dilatata ma sì li costringo poi tu sai benissimo che all'inizio di questo romanzo in realtà loro non sono a Milano né Mandelli né Casaregno sono in vacanza sono in vacanza come tantissima gente che appunto sta a Milano e ci sono due poliziotti due donne che sono rimaste a presidio della questura e si imbattono in una cosa tremenda perché in realtà sembrano una serie di suicidi femminili ma sono anomali perché in un periodo così ristretto tanti suicidi di questo tipo soprattutto con donne non identificabili sai benissimo che è un'anomalia che balza gli occhi di qualsiasi poliziotto attento loro sono lì sono molto annoiate perché hanno messo a posto tutti i documenti possibili immaginabili e la loro intuzione inizierà insomma le porterà a visitare un quartiere molto particolare di Milano che è qua vicino che è insomma per pensare se è in un l'ha detto sì l'ho detto insomma con tutte le e vanno e iniziano a sollevare questo velo su questo baratro che poi si rivelerà profondo e oscuro per scrivere questo che ti confesso dei tre è il mio preferito al momento e poi chiaramente tu ne scriverai altri tre quindi cambierò idea ancora hai approfondito le tue conoscenze su tematiche come per esempio la psichiatria la criminologia voglio dire tutto so dove vuoi andare a parare e ti rispondo sì ho approfondito ma sai questo è un libro ovviamente più maturo degli altri tu sai che l'esordio porta con sé sempre una una come dire una passione un cuore lanciato oltre l'ostacolo anche con le sue ingenuità appeso al giavellotto però con le sue ingenuità al netto di tutto il secondo era più meditato cioè volevo fare quella fusione tra Fuglietton e Noir di cui abbiamo parlato l'altra volta e questo in realtà è proprio pensato misurato e anche dal punto di vista della profondità delle ricerche dei tematiche molto molto attento tra l'altro non è stato proprio buttato giù di getto perché io ricordo che me ne parlavi già a ridosso della puntata precedente quindi noi parlavamo del trattamento del silenzio e lui era già in cantiere sì io sono già sono uno che si proietta molto con le idee in realtà tutti gli scrittori sono un po' come delle persone che raccolgono dei rametti le accumulano e poi questa catasta prende fuoco non imprevisamente però sai che c'è pensavo ci facessi un nido invece no in realtà no si deflagra però però è molto interessante perché comunque questo era un tema che mi interessava poi dentro c'è come sai il tema sulla violenza sulle donne che è centrale di questo romanzo e anche la ferocia delle donne perché io non faccio lo sconto non dico che sono immuni dal male anzi no ma questo tema mi stava a cuore ed è nato in modo abbastanza casuale perché te ne avevo già parlato poi dopo io facevo queste passeggiate lungo la Martesana e un luglio in cui ero sudatissimo sono entrato in questo centro di mediazione che vedevo tutti i giorni ero sudatissimo e gli ho detto buongiorno sono uno scrittore Gian André Cerone e questa persona questo direttore che era presidio di questo centro era indeciso tra il TSO e darmi credito sei nel posto giusto allora ha scelto una scelta da purgatorio mi ha messo nella sala ad aspettare e lì è stata la cosa vincente in realtà perché io ho iniziato ad ascoltare le storie delle persone che erano lì che non erano solo donne stoccherate ma erano non so un marito albanese di fede musulmana con la moglie peruviana quindi il tema dell'educazione dei figli era per loro un tema di dibattito acceso anche violento cioè in sala d'aspetto tu eri lì tranquillo ascoltavo queste storie loro mi vedevano lì uno con i pantaloncini e le scarpe della ginnastica e si raccontavano le cose io ovviamente da scrittore carpivo e poi sono uscito di lì e come sai ti ho chiesto anche delle cose ti ho chiesto delle cose specifiche e poi ho parlato con un po' di persone e poi sono stato colpito dal fatto di quando mi hanno raccontato una persona che si occupa di queste cose mi ha detto guarda poi non so se è vero questo me lo devi dire tu la nostra sconfitta vera è quando c'è l'ammonimento quindi quando c'è la parte quando partono le diciamo inibizioni penali giudiziarie perché lì noi abbiamo perso cioè abbiamo perso il tavolo intorno a cui queste persone si siedevano a parlare per cui lì non abbiamo più controllo su quello che può succedere perché non sappiamo in che tipo di violenza si trasformerà quella del del offender come si chiama in gergo e quindi questa cosa mi ha colpito molto allora ho scelto di utilizzare nel romanzo le figure di donne al margine della società al margine totale di varie etnie di varie di vari stati insomma di differenti stati sociali ma con problemi economici e soprattutto ho messo il carico dello scrittore con un figlio maschio a carico e poi lì c'è tutta questa vicenda che è una sorta anche di insomma non possiamo raccontare ma no ma infatti no anche perché guardate è talmente originale che anche soltanto darvi degli accenni davvero vi roviniamo la lettura vi abbiamo detto tutto quello che si poteva dire il resto davvero io lo lascerei allora non vi dovete spaventare per il livello ponderale del libro guardate veramente si legge in un soffio e tra l'altro voi non ci crederete ma riesce a essere anche una lettura divertente molto divertente nonostante i temi trattati intanto perché la squadra è sempre più affiatata ci sono anche delle evoluzioni nei personaggi quello che fino ad oggi aveva fatto un po' il giullare oggi diventa un membro a tutti gli effetti altri si innamorano altri insomma sai quello è il vantaggio della serie quando tu costruisci un mondo all'interno di quel mondo hai la possibilità di fare degli sviluppi un po' come ti dicevo l'ambito fisico no? certo la dilatazione dei liquidi però hai detto una paroletta magica io l'ho sentita guarda mi hai proprio agganciato e hai detto serie sì progetti? so dove vuoi parare anche in questo caso sì abbiamo in realtà abbiamo scritto la serie televisiva cioè per lo schermo sostanzialmente per l'audio video l'abbiamo scritta cioè sono stati opzionati da Indiana Productions che è quella che ha fatto l'ultimo film di Favino per farvi capire che era l'ultima notte d'amore ecco grazie perché l'ultimo film di Favino si rischia di dire il penultimo no non il penultimo insomma quella è l'ultima notte d'amore l'ultimo dico poliziesco di Favino e poi ha fatto tante altre tante altre produzioni e la memo film che è appunto Francesco Melzi sostanzialmente che lavora con Guadagnino insomma il livello dei produttori è molto alto abbiamo lavorato benissimo Marco Ponti regista di Santa Maradona e di altri film e altre cose con cui mi sono trovato benissimo perché lui è un regista oldeniano quindi un regista di scrittura c'è stata un'armonia bellissima e abbiamo scritto devo dirti la prima stagione con anche l'idea di sviluppo delle seguenti adesso ovviamente da quale dei tre partite? partiamo dal secondo perché ovviamente partire dal primo il primo lo useremo come backstory quindi lo utilizzeremo eventualmente perché storicamente molto esatto perché storicamente essendo ammiotato nel covid è un po' lontano un'uscita presumibile nel 26 27 28 insomma diventa un po' diventa storico mentre invece come storia di costruzione della squadra ha un senso siamo partiti dal secondo che abbiamo diviso in due stagioni perché lì ci sono due trame che vanno benissimo in parallelo abbiamo fatto devo dire un ottimo lavoro adesso in mano è il broadcaster e quindi stanno stanno facendo le loro valutazioni personaggi ci sono tutti? personaggi ci sono tutti ovviamente lo scavo che tu fai in una serie è totalmente diverso da quello del romanzo tant'è che io ho lavorato al concert di serie al soggetto di serie ai soggetti di puntata ma per questo primo passaggio guarderò guarderò come un professionista della sceneggiatura lavora proprio sulla sceneggiatura i personaggi sono stessi e ho fatto anzi un lavoro bellissimo personale sullo scavo dei personaggi che non avrei fatto altrimenti perché sono stato qui una domanda però mi si impone poi andiamo ai saluti mi si impone Gianandrea perché mi è già capitato tante volte di ascoltare scrittori che nonostante il successo delle serie televisive avevano comunque un piccolo dolore da qualche parte nella loro dentatura ma anche grande perché nonostante avessero partecipato alla sceneggiatura alla scrittura trovavano modificata troppo a volte troppo la loro storia quello Alessia è fisiologico cioè tu devi essere intelligente tu sai che io comunque ho lavorato anche su altri media quindi sull'audio sull'editoria classica sull'audio video tu sai benissimo che quando cioè devi sapere lo scrittore deve sapere che parla si parla di un altro medium quindi non puoi pensare che dentro quella storia lì ci sia rispecchiato esattamente quello che tu hai scritto nel romanzo anche per una mera questione di struttura struttura narrativa cioè io in un romanzo sono regista direct regista sceneggiatore le luci l'audio la sceneggiatura cioè decido tutto io e ti devo trascinare nella nella scena chiamiamo la scena visto che parliamo di audio video in quella scena in quel momento in quel capitolo tu devi essere con me il lettore deve stare sempre con me quando tu vedi una cosa la vedi la subisci quindi quello tu la vedi e vedi quello che è stato costruito quindi è per forza una costruzione differente se uno uno scrittore può ha due opzioni o non partecipi e quindi dici va bene o c'è il diritto e non ti aspetti che però che ci siano delle corrispondenze o partecipi e lì dipende dal grado di partecipazione perché se sei un produttore esecutivo puoi come fa ad esempio Donato Carrisi puoi andare che fa addirittura regista puoi lavorare e puoi pretendere che ci siano determinate aderenze al romanzo se hai degli altri ruoli puoi partecipare ma non potrai mai controllare del tutto insomma quello che c'è quello che verrà realizzato ricordo che Montalbano era lì c'era con i baffi e adesso per tutti noi è Luca Zingaretti quindi quindi per forza deve essere così tu ti sei dato un sacco di ruoli un po' di controllo maggiore non è che io volevo fare quell'esperienza ecco che un po' conoscevo quel mondo però l'esperienza di creare un concept di un soggetto di serie di puntata è completamente diverso perché devi lavorare comunque in team è un po' come quando fai l'editing devi essere intelligente e non puoi pretendere che poi quello che scrivi dall'inizio sia poi quello che andrà in pagina perché non non è così io che ho fatto qualche volta l'editor devo dire che anche per noi il compito è arduo e non sempre i nostri gusti o quello che noi pensiamo funzioni incontra il placet dell'autore che poi no si piega sì però sai l'editing poi può essere fatto secondo me in due banalizzando su due livelli diversi uno è un livello della struttura del linguaggio cioè quindi lì lì devi essere rispettoso dell'autore perché è il suo stile quindi lo puoi lavorare lo puoi snellire e uno invece sulle dinamiche a me è capitato ad esempio nell'editing dell'ultimo romanzo che mi sia stata fatta dalla mia direttore la direttrice editoriale che si chiama Federica Manzon che è la scrittrice abbiamo fatto una full immersion di un giorno e mezzo due insieme proprio sul romanzo e a un certo punto mi ha detto secondo me sta scena funziona se la spostiamo se manca no non se la spostiamo se manca quella persona molto di più rispetto poi ti dirò quale off the records e quindi funziona molto di più perché è più è più carica di pathos e aveva ragione quindi io lì sono stato intelligente ho detto hai ragione la togliamo ecco questa intelligenza dell'autore va messa al servizio di tutti i medi di tutte le operazioni che fai poi certe alcune vengono vediamo vediamo diamo ai posteri questa sentenza che non è ardua quanto invece è arduo quello che sto per dirvi vi ho detto all'inizio della puntata che era una puntata importante speciale ed è per questo che sono contenta di condividere con te questo momento perché questa è l'ultima puntata di risolto giallo è stata colpo di scena è stata una bella bellissima esperienza non sappiamo se l'esperienza l'anno prossimo potrà riprodursi se in questi termini in altri siamo aperti siamo segni d'aria io sono un acquario so che quello che arriva è benedetto e tutto quello che sostituisce quello che c'è stato è il benvenuto quindi con un pochino di commozione anche da parte di Niccolò Mazzavillani che si è preso il raffreddore proprio oggi che doveva salutarvi saluto te Gianandrea ti faccio un immenso in bocca al lupo per tutto ci auguriamo tutti di essere qui per il prossimo romanzo ma se così non fosse saremo sicuramente in libreria a comprarlo grazie mille Alessia arrivederci a tutti e leggete quanto c'è di giallo nella vostra vita? e quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? scopritelo con noi ha risolto giallo